La prima edizione è veramente straordinaria dal mio punto di vista, è veramente un'edizione al di sopra di ogni singola aspettativa, di ogni nostra aspettativa, veramente abbiamo credo ottenuto il massimo che una prima edizione possa avere, abbiamo ottenuto questo gran risultato di partecipazione dei piloti e quindi non posso essere che grato in prima persona a tutti i piloti, a tutti i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione, ma in più vorrei dare il mio ringraziamento più sincero e da parte di tutta la mia comunità all'organizzazione, al team Palichè, a tutti gli sponsor, ma in particolare ai tanti ragazzi ucrisi che in prima persona hanno collaborato e hanno fatto sì che questo magnifico evento potesse avere un ottimo risultato, quindi il mio grazie va a loro. 14 Sport Alvia, oggi fra questi si prevedeva il nome del vincitore e così è stato, 10 vetture tutte sport nei primi 10 posti della classifica e ovviamente il vincitore assoluto, quel Totò Arresta che l'aveva detto chiaramente, io qui voglio vincere, ce l'ha fatta, forse la vera sorpresa viene dal secondo classificato, il notissimo e simpaticissimo Domenico Mimmo Polizzi che al suo rientro dopo quasi 4 anni di inattività ha detto vengo a provare la macchina, lui invece ha provato a vincere, secondo assoluto, bellissimo risultato, lì c'è stato il succo della corsa, la battaglia, la competizione, l'amicizia e la sportività, oggi a Ucrisi ha respirato aria di sport.